Il patto per lo sviluppo della Calabria è uno strumento di programmazione più ampio rispetto a quelli che sono gli ordinari strumenti di programmazione delle varie fonti a disposizione di una regione come la Calabria, che ha consentito all'amministrazione regionale di inserire all'interno di un unico cappello strategico tutte quelle che sono le fonti di finanziamento dedicate allo sviluppo della regione. Quindi all'interno del patto per la Calabria sono confluiti sia il POR, alcuni interventi strategici del POR finanziato dal bilancio comunitario, sia il piano di azione coesione, il programma di azione coesione con riferimento a quelle che sono le linee strategiche e inoltre il fondo sviluppo coesione, che è il fondo destinato alle aree sottoutilizzate e che va a rafforzare, a completare quella che è la strategia di investimento nell'ambito di tutto quanto il territorio regionale. Grazie